In famiglia, fin da piccoli, abbiamo sempre respirato il profumo del buon pane appena sfornato, mantenendo nel tempo l'amore per le nostre tradizioni. Grazie all'insegnamento tramandato da Giovanni e agli anni di esperienza, portiamo oggi in tavola la migliore qualità, con la cura e la passione che ci contraddistinguono, per offrire sempre un prodotto semplice e genuino, che ora potete assaporare nella nuova e moderna sala degustazione. L'antico fornaio dei fratelli Cancedda. Dal 1955 la passione per il buon pane.